Vanno a scuola a cavallo queste ragazze messicane, una scuola nella quale imparano a tirare con l'arco come le donne indiane. A giudicare però dai risultati non traggono grande profitto dalle lezioni. Molte di loro sperano di poter interpretare alla fine del corso qualche film western. Beh, glielo vogliamo dire che è tutta fatica sprecata, perché ormai gli western li fanno solo i produttori italiani. Grazie.